Abbiamo partito la registrazione e dunque possiamo cominciare, dato che abbiamo messo all'ordine del giorno ammottatori piemontesi di occuparci dell'area come primo passo delle valli del Canavese, se Giorgio puoi presentare il GAL e poi pian piano arriviamo a capire cosa possiamo fare insieme. Va bene, allora buongiorno a tutti, sono veramente un po' emozionato perché abbiamo scoperto questo è un mondo che noi conoscevamo poco, in formazione sono agronomo, faccio il direttore del GAL e quindi abbiamo conosciuto questo sistema, la mappatura perché era un'attività dei nostri progetti, allora vi spiego cos'è il GAL, è un ente di sviluppo locale, pubblico privato, i GAL sono presenti in tutta Europa, ce ne sono circa 2000 in Europa, 200 in Italia e 14 in Piemonte, di cosa si occupano? Si occupano di costruire insieme al territorio, con un sistema button up, un progetto di sviluppo locale che dura 7 anni, di 7 anni in 7 anni. Questo metodo è un metodo assolutamente che funziona, tant'è che siamo già al ventesimo anno di leader, leader è il metodo che si chiama leader di questo sistema in Europa perché la progettualità dal basso, a differenza di quella dall'alto ovviamente potete capire che è tutta una serie di vantaggi, nel senso che decidiamo insieme al territorio come costruire questo progetto insieme e quindi è molto più facile che questo progetto abbia successo. Istituzionalmente noi quindi facciamo, dopo aver fatto questo progetto facciamo bandi verso le imprese e verso gli enti pubblici per arrivare appunto a un sistema di sviluppo integrato economico del territorio, questo è proprio il riassunto del riassunto. E GAL oltre che a questo, in particolare il nostro GAL e quello di Mario Poma che a volte più vicino di casa è un amico, quindi noi facciamo un rapporto particolare, è per questo che ci troviamo spesso negli stessi tavoli e anche qui oggi sabato in questa riunione perché come hai detto tu Marco, questi territori sono abbastanza simili sia dal punto di vista come indicatori socio-economici sia come tipologia territoriale per cui va da sé che è facile sempre attivare delle iniziative, delle progettualità insieme. Dicevo, GAL oltre che al piano di sviluppo locale che è il core business dello sviluppo locale del nostro territorio, per integrare questo tipo di risorsa noi ci muoviamo anche su altri fondi europei in particolare, sull'FSE che è la formazione e sul FES che ci consente appunto di poter attuare delle politiche più immateriali rispetto alle politiche istituzionali nostre che sono proprio materiali. Questa attività di completamento si è sviluppata in questa programmazione nella partecipazione a un progetto molto importante, integrato che si chiama Peter Guys Lab, è un progetto che avvalere sul fondo su Interreg a Cotra, Italia-Francia, è molto importante perché coinvolge 10 partner italo-francesi, ha un budget molto elevato, sono circa 8 milioni e mezzo di Euro, ovviamente divisi a livello di attività attuate da diversi partner. Questo grosso progetto integrato al suo interno ha 4 sottoprogetti, uno sul sociale, uno sulla innovazione, uno sulla mobilità sostenibile e uno sul turismo sostenibile, dove il Gal Canavese è capofila di questo progetto e insieme a parte dei partner è anche il Gal Canavese. All'interno di questo progetto, tra le attività che ci eravamo immaginati su un'esperienza fatta e fatta che stanno facendo i nostri partner amici francesi, abbiamo anche pensato di sperimentare una mappatura. Abbiamo un po' preso spunto da quello che fanno i francesi, anche se fanno con risorse completamente diverse dalle nostre, loro hanno un sistema di mappatura delle risorse territoriali che si chiama Pidae, dove la regione Ronalp ci mette circa 8 milioni di Euro all'anno e quindi è un sistema chiuso, però ovviamente funziona perché è un sistema che è molto sponsorizzato. Noi nel nostro piccolo abbiamo detto che proviamo anche noi a lanciare questa mappatura del territorio che serve a noi per conoscere il territorio e a me gli imprenditori per conoscersi, perché come voi i mappatori sapete meglio di noi, questo ho scoperto dopo, il nostro territorio è una specie di buco nero nello spazio rispetto alla mappatura in generale, ci sono poche informazioni tranne in alcune aree particolari dove c'è qualche mappatore un po' più attivo. E così abbiamo cominciato, noi come Gal, ma anche Gal di Lanzo, posso parlare anche per tutte e due, come tipo di attività, abbiamo cominciato con la collaborazione di alcune persone, qui c'è Sara Martinengo che non vi ho presentato, che collabora con noi proprio per questa attività di mappatura, di mappare partendo da quelle che sono le risorse, le imprese turistiche del turismo recettivo, del turismo della ristorazione e dei servizi e dell'attrattività turistica. Abbiamo cominciato a fare questa attività mappando su UMAP, perché ho conosciuto questo sistema qua, e questa attività è coordinata a livello del Val Galli e Canavesi da l'architetto Silvia Crestodina che non vedo mai lì in uno di questi quadratini, insomma è lo staff nostro questo. Ci siamo poi, abbiamo avuto la fortuna, e qui ci siamo illuminati, siamo stati illuminati, abbiamo conosciuto un amico comune, Marco Brancolini, che con il suo stile, devo dire, educato e non invasivo ci ha fatto capire in poche parole che questo sistema di mappatura, non ha detto così, ma ho capito che era infine a se stesso, che aveva diversi difetti. Il primo difetto è che era un sistema che di fatto diventava una fotografia, una volta finito questa attività moriva lì, a meno che noi avevamo in mente di fare delle formazioni sugli operatori, perché che almeno aggiornassero le loro posizioni, però era abbastanza difficoltoso. E poi perché questi dati non erano, benché il GAR, un ente abbastanza conosciuto sul territorio, quindi potremmo divulgare attraverso la nostra rete informativa questa nostra attività, in realtà è ben poca cosa rispetto a quello che lui ci ha fatto conosce, cioè appunto il mondo OpenStream. E a quel punto lì abbiamo ovviamente completamente, ne siamo un ente molto non grande, quindi molto veloce anche nelle decisioni, per fortuna con il nostro Consiglio di Amministrazione ho detto ok, sentendo appunto anche la, quello che è l'autorità di gestione di questo progetto, perché insomma noi abbiamo scritto delle cose, per farne delle altre, ho detto ok, OpenStream ma probabilmente quello invece che ci consente di, le luogo di Colombo, nel senso che noi incrementiamo diciamo questo database che è aperto a tutti e magicamente poi insomma se facciamo un po' di attività di sensibilizzazione territoriale anche attraverso Wikimedia Italia, per questo abbiamo cercato questo contatto con Wikimedia Italia, con Marco e tutti i mappatori locali, magari, se no magari sicuramente potevamo invece proprio fare centrare, centrare l'obiettivo che è quello di estendere la mappatura il più possibile, in modo più particolare possibile il territorio. Abbiamo pensato, e poi lascio anche la parola a Silvia, di tra le attività che vorremmo fare per promuovere questa, aprirci insomma questo mondo Open, di promuovere questo autunno, se ci riusciamo già, un evento e poi ci piacerebbe ripeterlo negli anni successivi, un mappato che serve sia insomma un po' per incontrarci, per divulgare la vostra importante attività che fate tutti i giorni in modo cartuito e sia perché ci piacerebbe anche così che nascesse nel nostro territorio qualche nuovo mappatore, insomma per poter dare anche il nostro contributo in questo senso. Io credo di aver detto malamente quello che volevo dire, ho lasciato la parola a Silvia e poi a Sara che completano questa mia breve introduzione che ho fatto. Silvia. Grazie, no ma hai detto più o meno tutto, mi viene da dire, visto che oggi si incontrano un po' due mondi diversi, perché noi lavoriamo con determinati obiettivi e voi con altri, ma penso che dal connubio possa nascere una buona cosa, nel senso che è chiaro che parlando anche con Marco in queste settimane, l'approccio di un mappatore è diciamo globale ed è molto interessante per noi perché invece noi siamo partiti come progetto che si occupa di valorizzazione e qualificazione dell'offerta turistica e della sua promozione, siamo partiti dal mappare quello che riguarda il turismo, quindi sia le risorse del territorio, outdoor o attrattività relativa al patrimonio culturale, sia invece gli operatori privati, quindi ricettività, ristorazione, servizi al turista, noleggio e attrezzature, poi sedimenti e outdoor sia gli itinerari escursionistici, cicloturistici e quant'altro sia l'outdoor, le strutture puntuali, la rampicata, sport d'aria, sport d'acqua e tutto questo ovviamente con un approccio di un progetto turistico, cioè un progetto a cui finalità è la valorizzazione turistica e con Marco invece abbiamo scoperto tutte le altre cose che insomma voi andate a mappare per popolare queste basi cartografiche, quindi penso che sia molto bello e molto proficuo lavorare insieme. Altro cosa ha più o meno detto tutto Giorgio, posso aggiungere qualche nota in più a questa piattaforma da cui siamo partiti, perché essendo un progetto trasfrontaliero che di solito è mosso proprio da una volontà anche di scambiare le buone pratiche fra i vari paesi, fra i due lati della frontiera, quindi in questo caso noi abbiamo conosciuto questa piattaforma Pidae che è una piattaforma B2B quindi in realtà che usano gli operatori turismo, gli operatori turistici e che viene popolata da anni, per cui anche i questionari, le schede che loro utilizzano per mappare i vari oggetti itinerari o operatori che siano, sono schede gigantesche perché mappando da anni hanno aggiunto tante caratteristiche che l'albergo piuttosto che l'attività sportiva può avere e quindi c'è stato da parte nostra e poi da parte delle due giovani architette mappatrici Sara Martinengo e la sua collaboratrice Agnese Caprioli, giusto? Sbaglio sempre se Caprioli o Caprioglio? C'è stato un grosso lavoro di sfrondatura perché erano veramente immensi questi questionari di schedatura e da quello che ho intuito ma Sara vi spiegherà poi meglio forse per inserirci in OpenStreetMap occorrerà un'ulteriore sfrondatura. Ha già detto Giorgio l'importanza per noi di inserirsi in OpenStreetMap, l'ultima sappiamo che sempre con l'occhio all'approccio turistico che io ho come formazione, come insomma il mio ruolo qui, sicuramente tutte le, ormai ci sono tantissime app turistiche soprattutto relative all'outdoor che si basano su OpenStreetMap, quindi c'è stato chiaro che come diceva Giorgio, fuori di lì siamo un po' un pesce morto. Naturalmente per noi c'è comunque poi anche l'intenzione, anche quello Marco e Sara lo spiegano meglio di me, poi da OpenStreetMap comunque di poter ribaltare i dati su una nostra piattaforma perché comunque abbiamo delle esigenze di sito internet, quindi ci sarà probabilmente una trasmigrazione dai nostri dati a OpenStreetMap e poi di nuovo da OpenStreetMap su una nostra piattaforma. Però i lati tecnici li lascio a chi ne sa più di me. Abbiamo lavorato anche con Anisa, prima Candida e poi Anisa, e penso ve ne parlerà lei a tirare giù una convenzione che metta in evidenza quali sono un po' gli impegni da parte di tutti e due gli enti. Da parte nostra sicuramente una divulgazione di quello che Wikimedia e OpenStreetMap fanno e del fatto di come noi e appunto della nostra collaborazione ogni qualvolta questi dati saranno pubblicati, saranno promossi eccetera. Non so se ho dimenticato qualcosa, Giorgio? No, direi che se Sara vuole completare cose un po' più tecniche rispetto a quello che avevo fatto, Marco se pensi che possiamo raccontare anche questo aspetto. Sì, poi Marco magari interviene soprattutto sull'ultima parte. Allora, noi inizialmente i dati li abbiamo raccolti sottoponendo dei Google Form con dei questionari alle strutture e andando così a generare in automatico dei database che si aggiornavano in automatico quando veniva compilato il questionario che abbiamo caricato direttamente su UMAP. Quindi in realtà la prima modalità di visualizzazione che abbiamo avuto per questi dati era appunto quella di andare a caricare i dati direttamente su UMAP andando a visualizzare le informazioni che ritenevamo più importanti. Come ha detto già Silvia i dati raccolti sono tantissimi perché appunto per non tralasciare niente forse sono anche un po' ridondanti e successivamente con Marco stiamo iniziando a provare a riadattare questi database che abbiamo per poterli caricare su OpenStreetMap perché i dati sono stati raccolti diciamo in maniera un po' libera e non schematica come poi andrebbero caricati su OpenStreetMap. Quindi stiamo cercando di dare dei tag a tutte le risposte o comunque alle categorie, alle sottocategorie che sono state individuate per poi poterle caricare su OpenStreetMap andando ad aggiornare eventualmente dati già presenti sulla piattaforma oppure andando a inserire dati nuovi nel caso che le strutture non siano state ancora mappate. Marco dimmi se ho dimenticato qualcosa? Sei muto forse? Sì, va benissimo. L'attività è appena iniziata e dobbiamo procedere. Più tardi magari ne parleremo. Abbiamo una prima riunione la settimana scorsa per discutere i tag, le etichette con cui metteremo i dati in OpenStreetMap. La cosa coinvolgerà anche la comunità. Personalmente ho diversi dubbi su vari tipi di informazione che sarà meglio un coinvolgimento generale, un'approvazione generale su quanto vorremmo fare, come vorremmo mapparlo. In questo abbiamo la fortuna anche di avere dall'altro GAL, Valli di Lanzo, un collaboratore che già conosce OpenStreetMap, per i mappatori lo dico è Berto 90, Alberto Varalli, che lui conosce già OpenStreetMap e quindi l'intenzione è di procedere con entrambi i GAL in modo omogeneo. Mario non so se volevi velocemente presentare anche il GAL, Valli di Lanzo. Così io magari condivido lo schermo, faccio vedere mentre parli di che zone stiamo parlando. Anche io avevo un videino da condividere sui Valli del Canavese. Mi spiaceva interrompere Giorgio, allora non l'ho passato. Se volete dopo lo passo, ditemi voi. Sì, e poi sentiremo Wikimedia. Allora provo adesso, poi tu passi quello di Lanzo, vabbè così chiudiamo. Come vedete? Vedete il mio schermo per ora, vero? Vediamo anche il chat di Telegram. Eh ma è quelli che vanno più fretta lì. Si vede? Sì, sì. Ecco noi stiamo lì, quelli verdi. Dobbiamo mettere una musichetta però. Possiamo cantare se vuoi. Tutto qui, era solo due informazioni per vedere dove siamo localizzati. Aspettate che adesso devo uscire. Annullo. Sei riuscito. Prego. Sì, bene Mario, ci presenti il tuo gale e il tuo territorio dato che sono presenti anche mappatori oltre a rappresentanti di Wikimedia che non sono piemontesi, così gli diamo un'idea di che aree geografiche stiamo parlando. Va bene, grazie, ti invito. Intanto non aggiungo nient'altro rispetto a quello che ha già detto Giorgio Magrini per il Gal Canavese. Questo è un progetto che parte appunto da un progetto europeo Italia-Francia. Ci sono state molte evoluzioni, siamo contenti di essere arrivati a questo passaggio fondamentale perché effettivamente noi avremmo fatto solo un pezzo del percorso. Oggi la possibilità di importare tutto questo lavoro fatto su un sistema come OpenStreamMap non può che essere veramente utile per tutti. c'è molta aspettativa su questo progetto perché sia i giovani sono stati informati di cosa stiamo facendo ma anche gli amministratori, quindi bene essere arrivati fino a questo punto. Condividiamo completamente le scelte, i percorsi fatti fino adesso. Velocemente il Gal Valle di Lanzo è un territorio, il territorio compreso tra il Canavese e la Val di Susa, è composto da 27 comuni partendo dai comuni limitrofi alla città di Torino, si spinge poi verso Lanzo che è il centro di questo territorio per poi dividersi nelle tre valli principali, appunto le valli di Lanzo, diciamo quindi partiamo da comuni che sono diciamo nell'area metropolitana torinese per arrivare fino a Balme, Urseglio, Groscavallo che sono comuni diciamo di alta montagna. Niente direi che tu stai già proiettando un po' quello che è il territorio, avremo sicuramente modo di approfondire, di conoscerli meglio perché insomma di dati ne abbiamo raccolti tanti, come diceva bene Giorgio, Silvia e Sara, adesso c'è da fare diciamo degli ulteriori passaggi, del gruppo Gal Valle di Lanzo, diciamo la collega di Silvia per il Gal Valle di Lanzo è Claudia Cominotti che è collegata qui con noi e appunto come responsabile diciamo di questa attività di mappatura fatta fino adesso e Alberto Varalli che credo si collegherà tra poco. Quindi grazie, sono certo che riusciremo a fare sicuramente un ottimo lavoro insieme. Bene, grazie. La palla adesso a Wikimedia e quindi Anisa, Paolo, cedo la parola a voi. Paolo, vorresti presentare brevemente Wikimedia? Sì, oltre a noi ci sono anche presenti Lorenzo Stucchi che è il coordinatore nazionale di OpenStreetMap e poi Yolanda Pensa che come ricordava prima Marco è il presidente di Wikimedia Italia. Io personalmente sono molto contento di queste collaborazioni, poi vedendo i territori che sono coinvolti mi vengono alla memoria i ricordi di quando ero ragazzo e andavo a Margone con Ratorio a fare il campeggio e quindi ho un ricordo anche affettivo di alcune delle zone che avete appena illustrato. E quindi sapere che sta iniziando una collaborazione con Wikimedia Italia è una cosa che mi rende contento e felice perché come già è stato ricordato Wikimedia Italia, associazione che è attiva nel 2005, che promuove la cultura libera e la condivisione della conoscenza e che è il capitolo italiano della Wikimedia Foundation che è la fondazione che c'è dietro al progetto più grosso conosciuto che è Wikipedia ma che ha anche altri progetti che credo che possano interessarvi come Wikimedia, per esempio Commons Wikimedia per le fotografie e poi il capitolo italiano di Open State Map che è il progetto da cui siete partiti. Dico siete partiti a mio parere perché è una... come ho appena ricordato il raggio d'azione di Wikimedia Italia coinvolge vari aspetti, l'aspetto della mappatura è uno degli aspetti. Noi come Wikimedia Italia promuoviamo un concorso fotografico che si chiama Winky Loves Monument che è il più grande concorso fotografico che ha come obiettivo quello di raccogliere fotografie di monumenti e di anche paesaggi ultimamente di tutte le parti del mondo e per contribuire a costruire un grande catalogo di immagini che poi possono essere liberamente utilizzabili. Dico liberamente utilizzabili quindi non solo nei progetti di Wikimedia e quindi l'enciclopedia Wikipedia ma anche Wikivoyage, lo ricordo ancora, e anche altri progetti. Ma possono essere utilizzate, visto che sono rilasciate con una licenza libera, in tutti... in tantissimi altri progetti e quindi per esempio perché non pensare come nelle vostre attività quando raccogliete delle foto, di rilasciarle con una licenza che ne permette il riutilizzo, per esempio. La butto lì, è un'idea che mi è venuta ascoltando le vostre esperienze, ascoltando quello che avete detto. Quindi la collaborazione con Wikimedia Italia credo che sia fondamentale per riuscire a trovare le strade migliori e il supporto migliore per poter fare in modo che tutte le informazioni, tutti i dati che avete raccolto e che raccoglierete possano diventare un patrimonio condiviso il più possibile. In questo modo ciò che il vostro territorio viene valorizzato, viene valorizzato, viene diffuso e viene conosciuto sempre di più. E quindi si possono anche poi mettere in atto quello che diceva prima Silvia, se non ricordo male, giusto? Quel lavoro di trasposizione, di passaggio da una piattaforma all'altra, che è proprio possibile grazie alla licenza con cui vengono rilasciati e vengono pubblicati contenuti. Quindi grazie per questa collaborazione e speriamo che porti non solo i frutti legati a OpenStateMap, ma anche a altri frutti e altri risultati. Invece io vorrei solo aggiungere qualche piccolo aggiornamento per quanto riguarda la convenzione, che è la parte un po' più burocratica di tutta questa collaborazione. Allora, siamo stati in contatto con i legali, con i volontari, con i mappatori piemontesi per buttare su questa convenzione, che stava dicendo anche Silvia un po' prima. ma manca un ultimo passaggio di approvazione da parte dei soci e del direttivo, che comunque sono sempre... Scusami, un'informazione di servizio, era già durato fin troppo. La connessione su questa, che è l'istanza principale pubblica di Jay Itzy, e inviterei gli altri, dobbiamo limitare le webcam, perché la banda è poca, la tua voce, Anisa, andava... No, tu Anisa, visto che stai parlando, tienila la webcam. Però il tuo audio cominciava a perdersi. Grazie. Sei mutata adesso? Sei ancora mutata? Mi sentite? Adesso sì. Ok. Ok. Scusate, non so cosa si è sentito. Provo di riassumere brevemente di nuovo. Allora, per ufficializzare questa collaborazione, appunto, si è proposta e si è iniziata anche una convenzione, sempre rimanendo in contatto tutti insieme, il GAL, Wikimedia Italia e anche i volontari, la comunità piemontese. In questa collaborazione abbiamo detto che mettiamo a disposizione anche un servizio, un tool che ha sviluppato Wikimedia Italia, che si chiama Tasking Manager e è basato sul Tasking Manager principale di Humanitarian OpenStreetMap Team ed è un tool che può facilitare la mappatura in caso di eventi nel futuro oppure di mappature quando la comunità nella zona di GAL crescerà ancora di più. Vorrei ringraziare tanto Marco che ci ha messo in contatto e che è sempre stato tanto attivo e ha seguito tutta la collaborazione, tutti i discorsi. Anche il GAL per l'interesse che hanno avuto è ancora di usare OpenStreetMap per la promozione del loro territorio e anche per la collaborazione. Allora, per quanto riguarda la convenzione, adesso è in una pagina che non è pubblica, appena è tutto finalizzato e approvato dai soci e dal direttivo, poi la mettiamo in uno spazio che è pubblico così si può trovare più facilmente. Però per il momento non ho il link. Precisiamo magari, non tutti quelli che ascoltano lo sanno, le cose come funzionano in Wikimedia Italia, tutto quanto viene fatto viene deciso dai soci Wikimedia Italia. E quindi questa convenzione, non appena ci sarà la bozza definitiva concordata tra Wikimedia Italia e il GAL, verrà resa disponibile per eventuale discussione nell'ambito di Wikimedia Italia. e una volta approvata quindi anche da tutti i soci, come diceva Nisa, sarà resa pubblica. Questo per non far pensare che le convenzioni vengono decise da pochi giustamente, essendo il capitolo italiano di Open Street Map Foundation, la palla è inizialmente nelle mani di Wikimedia Italia. Sì, spazio Marco per l'apprezzazione. Sì, aggiungo che, come dicevo prima, questo tipo di collaborazioni sono molto importanti per Wikimedia Italia. Io sono fiducioso del fatto che tutti i soci siano consapevoli dell'importanza e che approvino e quindi noi come direttivo possiamo sicuramente confermare in modo che i lavori possano iniziare, continuare e portare anche ad altre collaborazioni e ad altre iniziative. Sì, hai ragione. Paolo, io mi sono in questo periodo di contatti con il GAL mi sono morso abbastanza alla lingua perché io sono specializzato in Open Street Map e mi sembra più che doveroso che altri Wikimediani possano raccontare prossimamente al GAL le altre iniziative legate a Wikimedia che sono sicuro a partire da Wikivoyage interesseranno senz'altro tanto, però mi sono morso la lingua perché il mio ambito di competenza è Open Street Map. E anche se in Piemonte, devo dire, siamo contenti della comunità Open Street Map e tonica e attiva, invece di Wikimediani io non ne ho conosciuti tanti piemontesi intendo. Quindi benvenga la connessione remota per avere da esperti degli altri progetti il supporto, sarebbe bello organizzare incontri da remoto prossimamente per illustrare per esempio Wikivoyage piuttosto che Wikilove's Monument eccetera. Tanta carne al fuoco, io personalmente seguo il filone Open Street Map. Sì, ma tutti questi progetti alla fine si integrano tra di loro quindi che è anche la loro forza perché se abbiamo delle mappe ben costruite e con tante informazioni, tanti dati ben taggati, ben strutturati possiamo generare altre informazioni da poter inserire nelle pagine di Wikipedia piuttosto che nelle pagine di Wikivoyage, piuttosto che da altre parti insomma. Tutto sta lì. Mi auguro che si possa riuscire a sviluppare, a attivare i Wikimediani che ci sono sul territorio vicino a dove siete voi e che si possano attivare collaborazioni. So per esempio, come dicevi anche prima, che vi siete parlati con Yolanda anche per un'idea di sviluppo che io credo che sia molto interessante. Tra l'altro poi Ivrea, ho avuto contatti anche con il compianto della fabbrica Olivetti, come si chiama, Ugo Avalle. È un nome noto, sì. Io mi muovo nell'ambito scolastico e di insegnamento, quindi Ugo Avalle era legato al discorso del software libero e quindi ho avuto modo di incontrare anche lui. Insomma, il materiale per poter lavorare non manca. Posso intervenire ancora una volta? Certo. Allora, a noi ci interessa moltissimo tutto questo discorso qua. Oltre che essere dei curiosi, noi più cose conosciamo e più riusciamo a creare una comunità che funzioni allargata del nostro territorio, non riguardo i Wikimediani, ma proprio la comunità. Stiamo guardando con interesse la prossima programmazione europea, stiamo già facendo dei ragionamenti, uno dei temi che ci piacciono un po' è lo Smart Village e tutto questo è una parte del tessuto. Per cui troviamo un momento, magari dopo quest'autunno, più tranquilli, dove ci si incontra e noi riusciamo a conoscere tutto questo mondo che sta dietro, quello che è pillole che ci state dando, qualcosa che Marco ci aveva accennato, però lui è un esperto, ma ci ha raccontato qualcosa. Ci piacerebbe conoscere a fondo per poter inserire nei nostri strumenti di programmazione anche questa conoscenza che abbiamo. Se poi i soci approveranno la nostra convenzione di Wikimediani, noi saremo felicissimi ovviamente perché per noi il rapporto istituzionale è una medaglia che ci serve anche per continuare la nostra progettualità. tra gli enti che così, con Mario Poma, abbiamo coinvolto, che hanno mostrato interesse a queste nostre attività di mappatura, c'è anche la Camera di Commercio di Torino che per noi è uno dei partner, per cui la nostra rete è abbastanza, non è limitata sul livello locale, per cui ecco, questo faccio un po' di pubblicità per convincervi a provare la nostra convenzione, però ci piacerebbe... Io personalmente sono più che convinto. Ti ringrazio. Ci piacerebbe conoscere ancora meglio e poi magari fare un incontro un po' strutturato dopo questo turno, non a settembre, un po' ottobre, novembre, dove vogliamo appunto anche così venire un po' più in contatto con voi, anche questo abbiamo chiamato Mappat, ma possiamo chiamarlo come volete questo incontro qua, dove poi ci conosciamo e ci presentiamo tutte le varie scaccettature della vostra rete. Adesso mi taccio e mi scuso perché tra poco dovrò accompagnare un figlio alla metropolitana, ma vi ascolto in macchina. Benissimo, grazie, grazie Giorgio. Bene, il Gala e Wikimedia si sono presentati, tra i mappatori siamo meno del solito perché la fine del lockdown, nell'arrivo della bella stagione, mi sa che c'è un liberi tutti... Sono tutti in giro a mappare. ...generale, sì, bicicletta, piedi, funziona così. E c'era da un lato è comprensibile, ma li recupereremo senz'altro. Io volevo illustrarvi, ho fatto un po' l'analisi del territorio, per ora solo delle valli del Canavese, poi ci occuperemo anche di quello delle valli di Lanzo, per illustrare un po' con le possibili vie d'azione future, parlo dal punto di vista tecnico e quindi dei mappatori OpenStreetMap, di cosa possiamo occuparci. Dunque, i binari sono due, due binari paralleli, vedo. Uno è l'inserimento in OpenStreetMap dei poi che i due GAL stanno censendo. Dunque, magari vi condivido lo schermo così vi faccio vedere alcune cose. Dicevo, la parte che riguarda l'inserimento dei poi da parte dei GAL, dopo l'iniziale idea mi piace molto di più, dato che ho trovato la disponibilità da parte di entrambi i GAL di procedere tramite i loro collaboratori all'inserimento in OpenStreetMap. Mi fa molto piacere perché così la comunità OpenStreetMap aumenta e non abbiamo il problema come OSM di dover eseguire un'operazione di import. Cioè qualcuno ci dà dei dati, come succede quando l'ente locale, il comune, la regione, rilasci i dati OpenStreetMap, allora chi presiede all'inserimento di quei dati non è il proprietario dei dati, non è chi lo ha rilevato. E quindi c'è una burocraticamente pesantuccia procedura che si autoimposta alla comunità OpenStreetMap in tutto il mondo per andare a documentare preventivamente e a informare la comunità che si sta per procedere a un inserimento di dati che provengono da un'altra fonte. Per fortuna la situazione si semplifica di molto e a mettere dentro i dati sono coloro che li stanno censendo e raccogliendo. e devo dire che appunto Valli di Lanzo aveva già un valido collaboratore Osmer e Galvalli di Lanzo, sì, scusa sto vedendo il mio video, ah Alberto, stavo appunto parlando di te non sapendo che ti eri già collegato adesso e finisco solo il concetto e poi le due collaboratrici del Galvalli di Lanzo sare Agnese che devo dire molto velocemente essendo pratiche di strumenti come QG, SARC, GIS eccetera hanno acquisito la conoscenza di Giosma per poter inserire i dati. Alberto tu ti sei occupato anche della progettazione dei moduli con cui i due Galvalli hanno censito, stanno ancora rilevando i dati, so che sono moduli Google e poi vi ritrovate delle tabelle, degli sheet che l'idea che abbiamo adesso appunto è partendo da quegli sheet andare a inserire i dati in OpenStreetMap. Dici pure Alberto. Sì, buongiorno a tutti, scusatemi ma avevo un impegno in comune e non riuscivo a staccarmi prima. Ringrazio Marco per l'invito e vi permetto solo di fare una piccola introduzione di un minuto giusto per presentarvi quello che è stato fatto e che si vuole fare. Semplicemente il Galvalli di Lanzo che comprende 27 comuni dell'area Valle di Lanzo, Ceronda, Casternone più il comune di Caprie diciamo che ha proceduto con questa mappatura di quello che c'è sul territorio però con una finalità più diciamo turistica del discussionismo outdoor, cicloturismo, camminate e tutti i vari servizi in essi connessi. Quindi che cosa si è fatto? Si sono creati dei format in collaborazione anche con uno studio che ha seguito poi la fase successiva cioè quella di studio dell'attività presenti dell'offerta turistica e si sono impostati dei moduli per ogni attività quindi ricettività e somministrazione, attività, infrastrutture quindi tutta la parte di falesie di arrampicata piuttosto che di ferrate, di servizi comuni, posti eccetera eccetera e questi questionari sono stati proposti alle strutture direttamente o sono state intervistate a seconda di come veniva comodo loro e si è creato così un database. Questo database appunto automaticamente formato dai moduli di Google su una tabella Excel diciamo semplicissima ha poi fatto sì che si potesse popolare una mappa di UMAP suddivisa per vari livelli a seconda delle tipologie di strutture o di servizi eccetera eccetera. Quindi nel link di questa chat vi ho indicato l'UMAP di questo progetto quindi l'operta turistica Galvali di Lanzo Ceronda Casternone e questi sono diciamo una visualizzazione grafica dei dati ottenuti dal database. Quello che in una fase successiva si sta cercando di fare è intersecare questo dato con OpenStreetMap al fine di aggiungere ulteriore valore a tutto il sistema quindi diciamo fornire dei dati che magari OpenStreetMap non ha oppure acquisire dei dati che OpenStreetMap ha. Quindi una collaborazione bidirezionale su questo tema e qui ci stiamo un po' confrontando con Marco, con Ivo Ereano e anche gli altri collaboratori del Galvali del Canavese in modo da cercare di creare un gruppo di lavoro per capire come riversare questo dato. Sua preferenza. Bene, perfetto, grazie. Torno a condividere lo schermo perché volevo partire. Dunque abbiamo cominciato a guardare le tabelle che hanno i due Gal, questa viene dal Galvali di Canavese e abbiamo cominciato a indicare i tag di OSM corrispondenti all'informazione che i collaboratori dei due Gal stanno censendo. La cosa va avanti, vi faccio vedere e magari vi metto anche il link questo qua. No, di questo ve ne parlo fra un attimo. Venerdì abbiamo un incontro con i tecnici dei due Galvali per discutere dei poi, delle informazioni che devono inserire in OpenStreetMap. Abbiamo un gruppo Telegram con i collaboratori del Galvali e per ora ci siamo solo io e Ivo, ve lo metto nella chat questo link. Benvenga, aggiungete pure chi di voi è interessato a questa attività di supporto ai Galvali nell'andare a definire tutti i tag che servono. Questo è il link appunto di questo blocnotes. E dico, parlavo di due binari paralleli perché uno è appunto questo, nel quale appunto noi come comunità di mappatori non inseriamo direttamente dei dati ma abbiamo supporto a entrambi i Galvali nella definizione dei tag. L'altro binario invece è quello che cosa possiamo fare noi, noi comunità di mappatori piemontesi, per arricchire la mappa in questi territori. Vi faccio quindi vedere l'analisi che ho fatto, ripeto per ora solo del Galvali del Canavese, l'area è questa, usiamo le ortofoto della regione Piemonte per identificare l'area, Ceresole, Gran Paradiso, confine con la Val d'Aosta a nord e giù verso Torino a sud. Su quest'area abbiamo questi comuni, sono evidenziati, sono scritti in piccolo, non so quanto si possa vedere. Ho differenziato in rosso, è una cosa che non sanno tutti, io mi rogo, stupito molto quando l'avevo scoperta, il fatto delle esclavi e quindi di quanti comuni ci sono che hanno un'area non dentro i confini comunali, questo per esempio è Castellamonte e questa è un'esclave di Castellamonte che ci sta a parecchi chilometri di distanza e questo da un punto di vista amministrativo funziona così. Allora che analisi ho fatto del territorio? Andiamola a guardare nella tabella di LibreOffice. Allora, compiti per noi mappatori. Questa è la situazione che ho trovato sui da 4 a 56, i 53 comuni dei Galvalli del Canavese. Situazione dell'edificato, in giallo è evidenziata la mancanza di edificato. Molti paesi sono molto piccoli, sono poche case in realtà. In grigio la mappatura parziale e poi il 90-99% di edificato. Sull'edificato c'è da lavorare parecchio. Approfitto della presenza dei due direttori del GAL per segnalare che noi Osmer siamo molto contenti quando un comune, tramite passare da Delibera, ci rilascia i dati del proprio edificato, se dispone appunto di formato elettronico che arriva solitamente da QGIS. Questo perché per mappare l'edificato noi abbiamo la foto aerea o satellitare e vediamo il tetto. Soprattutto nei centri storici, anche i centri dei vecchi paesini, vedi un'unica distesa di tetti e andare a identificare i muri a terra e quindi le singole abitazioni siamo molto più contenti e possiamo migliorare la qualità della mappa quando possiamo aggiornare il dato in OSM dalla fonte dell'ufficio tecnico comunale. Quindi se si potranno fare azioni verso i comuni per avere informazioni oltre che sull'edificato devo dire anche sullo stradario abbiamo ancora vari comuni per cui i nomi delle vie nel centro abitato non li abbiamo e queste due informazioni di solito all'ufficio tecnico comunale si possono trovare. In particolare almeno lo stradario, allora il piccolo comune che non è informatizzato l'ufficio tecnico, perlomeno un pdf con i nomi delle strade probabilmente ce l'ha. Quindi questa è un'azione che su edificato e stradario possiamo attivarci in autonomia con le foto satellitari ma meglio ancora con i dati dell'ufficio tecnico. sullo stradario le foto satellitari ovviamente ci servono per poter rilevare e disegnare la strada ma il nome della via ovviamente non lo possiamo conoscere. Anche i numeri civici c'è parecchio da fare, i numeri civici ricordo sono importanti e indispensabili per i mezzi di soccorso, per la centrale, di risposta all'emergenza, il numero unico 112, visto che nel loro lavoro usano prevalentemente la mappa OpenStreetMap tra le varie cartografie che hanno a disposizione. Il numero civico è una cosa che più volte ho sentito dalle due centrali operative del Piemonte del 112, la richiesta, voi mappatori metteteci più numeri civici possibili in OpenStreetMap. Quindi questi sono tre filoni per chi entrerà nel gruppo che si occuperà appunto di migliorare la mappatura della zona, mi scrive la mail, mi scrive in OpenStreetMap, ok, gli darò il permesso d'accesso in scrittura a queste tabelle che sono disponibili a tutti, questo è il link dei file condivisi, sono disponibili in lettura. In questa cartella ci sono sia la tabella Office che mi stavo facendo vedere, che è questa. Marco? Sì. Ciao, scusa se ti interrompo, ce li puoi mettere nella chat questi link così possiamo fare coca e incolla? Eccolo, il link che ho appena messo nella chat è il link appunto a questa cartella dove c'è questa tabella Excel che condividiamo, ovviamente è in lettura per chiunque è il link, in scrittura, comunicatemelo in modo che possiate aggiornare attività. Sì. Hai collato il link di questa sessione mi pare, non il link di Drive. No, questo. Quando uno ha la presentazione. No, no, io vedo il link. È il link breve, scusa. Sì, sì. Non posso sapere quello completo. Oppure, scusate se intervengo, ma se voi cliccate sul link che ha messo prima Marco, etherpad.wikimedia.org, trovate quel foglio che adesso sta facendo vedere, dove per esempio io ho aggiunto le due mappe UMAP che sono state messe nella chat, perché nel momento in cui la videochiamata si chiude, tutto quello che c'è nella chat non c'è più, invece quello che c'è nell'etherpad rimane. Sì, grazie. Hai fatto bene a precisarlo. Quindi se tutti andiamo nell'etherpad, è un foglio degli appunti condiviso, dove ci sono tutti i vari link che servono. e nel quale potete tra l'altro aggiungere note o spunti di riflessione, certo. Scusa, ci sono intervenuto così veloce. Hai fatto bene, grazie. Stavamo quindi vedendo la tabella, non questa. Marco, sono Alberto, posso solo aggiungere una cosa, se possibile? Sicuro. Allora, intanto sono entrato nel discorso e mi sono venuto in mente alcuni spunti di riflessione. Allora, per quanto riguarda tutte le aree fabbricabili, dirizi, stradario, intanto ringrazio davvero tutti perché è un lavoro utilissimo, ma lo sapete bene, per OpenStreetMap, per il discorso di mappatura, per il soccorso, per i postini che non sanno dove andare a recapitare le lettere. Insomma, ci sono davvero molteplici usi. Anche per la mappatura, per entrambi i galle. Io mappatore, che cosa ho fatto? Ho mappato le simbole e strutture come un punto, no? Quindi che cosa può capitare? Che ci sia un punto in mezzo al nulla, se non sono mappate le strade, i fabbricati, quindi tutte le vestizioni, diciamo così, della mappa. Quindi avere le sagome, dei fabbricati, le vie per arrivare a quel luogo, piuttosto che il numero civico, è una cosa fondamentale. Io vedo anche qua, che io sono a Dusselio, un piccolo comune delle Vai di Lanzo, per chi non lo conosce, anche solo il postino nuovo, che non è mai venuto sul posto, non sa neanche dove andare a mettere una lettera nella buca delle lettere, perché non conosce lo stradario. Quindi, quello che diceva Marco, di attività di ricerca negli uffici tecnici, piuttosto che, vi consiglio anche sui siti dei comuni, è un'attività fattibile. Non sempre però si trova, ad esempio qua da noi, uno stradario non esiste, almeno. Non è stato neanche informatizzato il PDS, quindi bisognerebbe andare nelle libere di consiglio degli anni 60, 70, 80, cercarsi lo stradario, informatizzarlo, per caricarlo. Quindi diciamo che è un'attività che magari si riesce a fare in modo un po' più agevole nei comuni un po' più grandi o un po' più organizzati. Quello che posso darvi come spunto è andare a verificare sul sito del Comune, in amministrazione trasparente, delibere, e facendo una ricerca libera, cercando stradario, nei vari anni dovrebbe saltare fuori se c'è qualche delibera di consiglio comunale, perché le delibere che riguardano stradario sono del consiglio comunale, dove vengono modificati o istituiti stradari comunali.